La voce degli studenti la ascolti solo su radioeco.it Per Radio Eco, oggi 31 marzo, siamo all'ultimo incontro del caffè della Versigliana con il procuratore Gian Carlo Caselli. Dottore, questa crepa che si è creata tra Stato e magistratura, secondo lei favorisce ancor più le infiltrazioni mafiose all'interno delle istituzioni? Innanzitutto ovviamente è il mio punto di vista, può anche essere un punto di vista corporativo, ma spero non tanto, personalmente sono convinto che non è corporativo, nessuna crepa. C'è una magistratura che fa il suo dovere e ci sono pezzi dello Stato, a volte anche autorevoli, a volte anche con responsabilità istituzionali di assoluto prestigio, che ad essere sottoposti al controllo di legalità come tutti gli altri cittadini non ci stanno e allora si inventano uno scontro tra magistratura e politica, una crepa all'interno dello Stato fra la magistratura e la politica, mentre è una delle tante maniere per cercare di difendersi non tanto nel quanto piuttosto dal processo, inventandosi questo scontro come se si trattasse di fazioni contrapposte, ciascuno dei quali tutela i suoi particolari interessi, e così non è per la magistratura, non basta ripeterlo a nastro un concetto del genere, perché se è falso e falso è, falso rimane nonostante la ripetizione ossessiva. Certo, e comunque nel contesto in cui ci troviamo in questo periodo, dove comunque sembra che la politica non abbia il pugno di ferro nei confronti della criminalità, abbia un comportamento piuttosto blando, mi concede il termine, come si combatte la criminalità in un contesto del genere? La criminalità si combatte efficacemente dotando le forze dell'ordine, la magistratura, gli apparati in generale di contrasto, di mezzi, uomini e risorse sempre all'altezza dei loro compiti e questo non sempre avviene. Poi ci vuole un'antimafia della cultura, discutere di queste cose, non soltanto quando la mafia uccide, ma anche praticamente sempre, per non dimenticare che la mafia c'è anche quando non uccide, è un sistema criminale, pervasivo, oggi un sistema economico illegale che sta avvelenando l'economia pulita, con tutte le conseguenze che sono denunciate anche, finché lo era, dal Presidente della Banca d'Italia Draghi. La crisi di liquidità che non colpisce l'economia illegale, che quindi non essendo in crisi di liquidità ha dei vantaggi enormi rispetto all'economia pulita, determina un inquinamento dell'economia pulita, un avvelenamento dell'economia pulita con tutta una serie di conseguenze. E poi però bisogna anche che, ma questo non riguarda in generale la lotta al crimine organizzato, ma più in generale la tenuta da molti punti di vista del nostro Paese, che la politica cerchi di volersi più bene. La credibilità della politica oggi è ridotta a poco, ma il nightmare ha calcolato l'indice di gradimento della nostra politica pari al 4%, cioè siamo vicinissimi allo zero, questo perché responsabilità politica e responsabilità morale non esistono più, sono concetti obsoleti e legati in soffitta e allora se succede uno scandalo per problemi di mala amministrazione, mala politica, deviazione di potere, corruzione, concussione e via, seguitando mai, praticamente mai responsabilità politica o responsabilità morale, tutto sospeso in vista di un'eventuale affermazione di responsabilità penale, di responsabilità giudiziaria. Con questo piccolo particolare, che la giustizia nel nostro Paese non funziona e non si fa nulla per farla funzionare, per cui un'eventuale affermazione di responsabilità penale arriverà soltanto dopo 10, 15, 20 anni, quando non serve più e per nessuno si ricorda della cosa e quindi niente responsabilità morale, niente responsabilità politica, tutto delegato, rimandato all'eventuale responsabilità penale che non arriverà mai o arriverà quando non serve più, una perenne autosoluzione da parte della politica, una sorta di cortocircuito che ci sta impantanando. Io sono assolutamente convinto che la politica deve funzionare, deve funzionare, se possibile nel migliore dei modi, in modo da garantire l'interesse generale, perché senza politica, senza una politica funzionante, andiamo a sbattere. Le derive, le più pericolose, sono dietro l'angolo e non è un destino che ci si possa assolutamente augurare. Allora ecco che la politica deve riprendersi, deve volersi bene, facendosi voler bene della gente, se necessario anche facendo un po' di virgolette pulizia al suo interno, recuperando quella responsabilità politica e morale che altrove funzionano, da noi non si capisce bene perché, non si capisce persino troppo bene, invece non funzionano. Perché il ministro della difesa della Repubblica Federale tedesca, von Gutenberg, uomo potentissimo, delfino di Merkel, destinato a una carriera prestigiosa, inarrestabile, è costretto, costretto a furor di popolo a dimettersi, e di lui politicamente non sentiremo mai più parlare nel momento in cui, quattro anni dopo, si scopre che aveva copiato in parte la sua tesi di dottorato. Perché questo succede in Germania, nella Repubblica Federale tedesca, e da noi non succede quasi mai, per non dire praticamente mai. Evidentemente ci sono delle differenze, e sono differenze che pongono il nostro Paese in una posizione sicuramente non favorevole. È anomalo il nostro Paese da questo punto di vista, ripeto agli altri Paesi europei, e con tutte le conseguenze anche di rischi che ne possono derivare. Ringraziamo il Procuratore Caselli per il tempo concessoci. Arrivederci da Radio Eco.